accomodati susi accomodati visto che ci lamentano in tanti io ti ho fatto vedere dei tipi di interventi alla porcellina francese e ancora con la nozza e non è un problema, la trittica è che rimaneva ancora sapata come è che fa così e non male e non male e non male e non male ma io te l'avevo detto una patana o un porcellino in su hai scelto la patana un po di gobba te la sono tolta e voglio dirti anche una cosa su a breve intervento esusi